Le stelle nascono, vivono e muoiono, e il sole non fa eccezione, ma può spegnersi improvvisamente. Non dovreste preoccuparvene per, diciamo, 5-7 miliardi di anni, ma con il passare del tempo, il sole, alla fine, esaurirà l'idrogeno ed esploderà, trasformandosi in una gigante rossa e divorando i tre pianeti più vicini, Mercurio, Venere e la Terra. Ci vorranno solo pochi secondi perché gli oceani si evaporino e il vapore si scomporrà in ossigeno, causando un'esplosione di potenza incredibile. Qualche tempo dopo, il pianeta dal colore blu sarà destinato ad arrostirsi e tutti gli organismi viventi e non viventi diventeranno ceneri cosmica grigia. Crediamo che l'umanità si sarà stabilita da qualche parte su Marte o anche più lontano, entro quel tempo.